Un buato violento all'incrocio fra via Rossini e via Verdi. La moto condotta da un 14enne si è scontrata contro un'auto guidata da un 34enne della zona, uno schianto che hanno sentito distintamente i residenti. Quando sono uscito c'era il ragazzo a terra, mi sono preoccupato del ragazzo perché era praticamente semi-incosciente, l'abbiamo tenuto su, mi aveva spaccato la gamba all'altezza del femore, poi è arrivata l'ambulanza e sarà su un pistolone. Il ragazzo che è stato portato in ospedale in gravissime condizioni stava provando la moto di un amico. I carabinieri giunti sul posto stanno verificando se il 14enne ferito avesse conseguito o meno il patentino per condurre la due ruote. La dinamica del grave incidente è al vaglio degli uomini dell'arma ma sembra che sia stato proprio lui a non rispettare il dare precedenza. Lui ha impattato contro la macchina e ha scavolcato la macchina. Sul posto in mattinata anche il sindaco di Conegliano Fabio Chiesse. La cosa che in questo momento ci interessa di più è veramente stare vicino alla famiglia del ragazzo. Speriamo che si riprenda, ci hanno detto che le condizioni sono stabili, sembrerebbe ma con cautela in leggero miglioramento. Incrociamo le dita perché sono fatti veramente che turbano tutta una comunità. Una strada questa che non è molto frequentata, anche se i residenti ci spiegano a che a volte i mezzi, auto e moto, corrono a forte velocità. Uscendo di casa ieri ho visto tutti appunto i carabinieri e tutti i ragazzi fuori. Purtroppo qui appunto le macchine transitano e per girarsi però entrano dentro sparate nel senso unico, quindi non so la dinamica dell'incidente però capita spesso. Incidenti per ora non ne ho visti molti, sono qua da un anno in via Rossini, però diciamo che mi capita spesso anche col cane di dover stare attento perché vengono veloci insomma. Corre fa la maniera, non le rispetta, dopo tante volte fa le gare, nel senso... Fanno le gare qua in questo circuito? Qualche magari... No gare, ma... Corrono veloci. Un po' di più diciamo questo, però è una strada anche che muore e non è che sia una strada con uscita. Alcuni residenti chiedono venga posizionato un dissuasore di velocità e sistemati i cartelli stradali. Ma guardi, adesso rifaremo la segnaletica, ma è l'unica cosa che possiamo fare, nel senso che è ben evidenziato tutto, c'è andare la precedenza, ripeto, è una strada di poca percorrenza, è una strada centrale e niente, speriamo veramente che il ragazzo si riprenda l'unico nostro pensiero adesso.